durante il party di presentazione della webserie Piove. Vittoria e il compagno sono arrivati mano nella mano e non si sono mai separati. Sguardi, baci e tante carezze che non lasciano spazio ai dubbi. I due hanno scelto anche lo stesso look, con jeans e giubbotto in pelle. L'attrice, dopo il cambio di sesso, aveva dichiarato di aspettare...